vi siete mai chiesti perché lo facciamo lo facciamo per le persone per semplificare i loro gesti per il loro benessere lo facciamo per migliorare la vita di tutti i giorni per le prossime generazioni facciamo ricerca pensiamo ai bisogni quotidiani al lavoro a scuola a casa nelle città lavoriamo con le aziende del nostro territorio immaginiamo con loro prodotti e servizi nuovi per essere più competitivi per creare valore spesso non si vedono a volte li diamo per scontati ma è grazie ai risultati della ricerca che nasce l'innovazione velocizzare la rete viaggiare più sicuri evitare sprechi avere cibi sani e cure efficaci all'istituto superiore mario boella facciamo ricerca per questo per aiutare le imprese creare opportunità crescere in una parola innovare dietro la vostra giornata dietro il vostro lavoro c'è anche la nostra ricerca grazie a tutti grazie a tutti